Il convegno del Cirigliano si conclude con una prova per anziani, una condizionata per anziani di 5 e 6 anni sulla distanza del miglio, 13 al via, se in prima, se in seconda, uno in terza. Dallo steccato Coco Bella, Conchiglia Jet, Baron del Ronco, Caronte Tor, Costantinferme, Clown Regal, seconda fila per Big John LF, Bagica Lupofont, Bailuca Di Venere, Cevalotto, Clinton RG e Colplay Call, terza per Colmiti C, Caronte Torre e Clinton RG, numeri 4 e 11 godono di rapporto di scuderia. Dal largo dello schieramento Clown Regal prova lo sfondamento, parte più veloce di tutti Caronte Torre, ha marcato passi falsi colplay call che si è rimesso prontamente e si ritaglia una posizione alla corda, Clown Regal sfila a condurre, 15 e 2, i duecenti iniziali, è rimasto dietro Bagica Lupo che adesso punta in avanti, Bagica Lupo va all'attacco di Clown Regal, cerca di coglierlo di sorpresa con un gran parziale, 31 e mezzo il quarto iniziale, Bagica Lupo attacca a fondo Clown Regal, i due lottano, poi finisce con lo sbagliare, Bagica Lupo a fondo, si rimette però prontamente, prova a ritrarsi in seconda posizione ma c'è l'inserimento di Caronte Torre, combattuta la prima fase di gara, reitera l'errore colplay call, 45 e 7 i seicenti iniziali, colplay call è ancora in corsa, probabilmente la prima volta ha sbagliato prima dello stacco, primo giro in 1-1 e mezzo, Caronte Torre sbaglia e per un attimo coinvolge Costantinferm che poi si riprende e si lancia all'inseguimento dei primi due, chilometri in 1-17, Clown Regal, Bagica Lupo font, Costantinferm a contendersi il successo, in difficoltà di meccanica, Coco Bella più dietro, tre quarti di miglio ultimati in 1-32 e mezzo, Bagica Lupo font anticipa la progressione di Costantinferm, Bagica Lupo prova all'attacco a Clown Regal, Costantinferm non progredisce, ingresso in retta d'arrivo, Clown Regal in vantaggio, Bagica Lupo che ci prova, Clown Regal allunga definitivamente, e va a vincere Clown Regal nei confronti di Bagica Lupo font e Costantinferm, 6-8-5 l'arrivo probabile ed ufficioso, i più attesi nelle prime tre posizioni, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1-15-3 per il successo di Clown Regal e Antonio Simioli, il figlio di Vivi Dueis S o Ara Griff, difende i colori della Lerwick per il training di Giuseppe Capasso, ma è tutto subiudice in quanto la giuria si riserva di visionare il firmato della corsa prima di confermarne l'ordine. In attesa delle decisioni della giuria, noi vi diamo l'arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà mercoledì 20 dicembre. Buona serata a tutti.